Grazie a tutti. Per le date successive al 9 giugno, scoperta ancora la tratta per Roma, operata da Blue Air. Il WWF attraverso il suo referente regionale Carmelo Spada aveva lanciato l'allarme per lo stagno, al quale si aggiunge adesso anche quello del presidente del comitato di quartiere di Fertilia, Luciano Solinas, per l'abnorme proliferazione al Gale. L'enoturismo protagonista di Wine Up, un progetto che si occupa di questa tipologia di turisti che amano il vino e non solo, un'opportunità per le aziende del territorio, della quale abbiamo parlato con la progettista Nadia De Santis. Ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Catalan TV. In apertura a DTG la continuità territoriale, perché proprio da ieri Alitalia ha messo in vendita i biglietti per la tratta al Gherolinate per le date successive al 9 di giugno, ma la tratta per Roma, sulla quale sta operando Blue Air, è ancora scoperta e come letto dai titoli abbiamo una mezza continuità. Sta assumendo i contorni di una piccola telenovela, la proroga dell'attuale continuità territoriale, perché se Olbia non ha avuto problemi per le date seguenti all'8 giugno, con Meridiana che ha da tempo messo in vendita i biglietti senza attendere le mosse della regione, Cagliari ora non le avrà perché Alitalia ha provveduto. Al Gherolin invece si ritrova a Cenerentola, perché se è vero che l'ex compagnia di bandiera ha messo in vendita i biglietti sul proprio sito, anche per il collegamento Al Gherolinate dal 9 giugno in poi, altrettanto non può dirsi per Roma-Fiumicino. Sulla tratta per la capitale, da tre mesi a questa parte è Opera Blue Air, che ancora invece non consente di prenotare i voli dopo l'8 giugno. Una piccola beffa, l'ennesima verrebbe da dire, ma in concreto l'impossibilità per chiunque di poter programmare il proprio viaggio, di lavoro o per svago che sia. Oltretutto nei giorni scorsi i vertici di Federalberghi avevano lanciato l'allarme delle prenotazioni con contraccolpi possibili per la stagione estiva. Staremo a vedere se nelle prossime ore la situazione si sbloccherà, ma a proposito di trasporto aereo sta diventando anche paradossale la vicenda legata al bando sulla destagionalizzazione. Gli esiti sembravano indirittura d'arrivo, ma inspiegabilmente non è ancora arrivata alcuna ufficialità sulle rotte assegnate. Nel frattempo c'è chi, come Welling, ha deciso di portarsi avanti e annunciare comunque la rotta per Barcellona, attiva da fine marzo. E ritorniamo a parlare adesso di un altro argomento, della recente approvazione della delibera riguardante la società in house sulla quale intervengono oggi i consiglieri comunali di Forza Italia, Paes, Pirisi e Camerada. Finalmente col nostro convinto voto favorevole si è data dignità e certezza del futuro ai 50 e più lavoratori della società in house, scrivono in una nota. Dopo sei anni di incertezze, precarietà, proroghe di contratto annuali, minacce di licenziamenti collettivi, riduzione di orari, critiche di ogni tipo da parte del centro-sinistra sulle capacità e sull'efficienza dei lavoratori, finalmente è stata approvata una delibera che consente loro di avere una certezza sul futuro. Era uno dei punti programmatici del nostro programma elettorale, perché noi, a differenza di Bruno e Enco, abbiamo sempre creduto alle potenzialità dell'Alghero in house che nel 2007 creammo. In tutti i modi, prima che Bruno e i compagni si ravvedessero sulla via di Damasco, abbiamo provato inascoltati a proporre soluzioni concrete che consentissero alla società strumentale del comune non solo la sopravvivenza, ma che diventasse una risorsa per il comune stesso. Da oggi in poi, proseguono i tre forzisti, vigileremo perché non vorremmo che tutto rimanga sulla carta, che le modalità con il quale verrà fermato il contratto di servizio non diventassero un boomerang, impedendo di fatto un piano di sviluppo, di consolidamento e di crescita per la società partecipata. Avremmo voluto di più, avremmo voluto la trasformazione e il miglioramento del contratto di lavoro. Non ci siamo riusciti, ma di certo non smetteremo di suggerire miglioramenti, di verificare se davvero si sia garantito l'equilibrio economico della società, al di là delle poche cifre consegnateci, al di là che il contratto di servizio sarà firmato con un mese di ritardo rispetto alle previsioni, con tutte le possibili ricadute economiche negative. Incalzeremo l'amministrazione per comprendere a chi spetterà, in attesa dei presumibili lunghi tempi derivanti dalla nuova gara, la gestione dei servizi cimiteriali e se anche in questo caso si andrà in proroga con possibili i riverberi negativi sulla gestione della in-house. Vigileremo sulle nuove modalità di gestione della sosta a pagamento affinché l'amministrazione non si addentri in meandri fiscali rischiosi per le casse comunali. Speriamo infine che anche per la SECAL si vada su questa strada, evitando proroga addirittura trimestrali che non solo impediscono la normale attività della società delle entrate, ma che rendono altrettanto precario il futuro lavorativo di altri 15 vali dipendenti. Si chiude la nota del gruppo consigliare di Forza Italia. E proseguirà nell'anno in corso la rottamazione delle cartelle Equitalia. Si estende anche ai debiti 2017 la possibilità di usufruire delle agevolazioni per le somme dovute nei riguardi della SECAL per ICI, IMU, TARES e TARI. Il debito, così come è accaduto per gli anni dal 2000 al 2016, potrà dunque essere destinto senza corrispondere alle ammende anche per i provvedimenti di ingiunzione notificati entro la data del 16 ottobre 2017. L'assessorato alle finanze coglie l'opportunità del Decreto Legge Fiscale numero 148, convertito con legge il 4 dicembre 2017. L'estensione delle agevolazioni, la cosiddetta arrottamazione bis, ottiene via libera del Consiglio Comunale su proposta dell'assessore alle finanze Gavino Tanchis. L'Assemblea ha infatti ratificato l'integrazione al regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, che di fatto riapre i termini per accedere al beneficio. Via le sanzioni anche per le entrate 2017, quindi i cittadini potranno estinguere il debito versando le somme ingiunti a titolo di capitale e di interessi, con le spese relative alla riscossione coattiva, le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento e le spese relative alle eventuali procedure cautelare e esecutive sostenute. Per le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, le disposizioni contenute nel regolamento si applicano limitatamente agli interessi compresi quelli di Mora. L'assessore Tanchis conferma la scelta di aderire alle opportunità legislative in prosecuzione al percorso avviato l'anno scorso, che rappresenta un'occasione che vogliamo continuare a mettere a disposizione degli algheresi. Un segnale di massima attenzione aggiunge che conferma la vicinanza e la volontà di mettere in campo ogni misura possibile all'interno del quadro normativo per contrastare gli effetti della crisi all'interno delle famiglie. E torniamo invece a parlare anche dello stato di salute del Calic, perché in questi giorni il WWF con il proprio referente regionale Carmelo Spada ha lanciato l'allarme. C'è da registrare anche l'intervento del Presidente del Comitato di Fertilia, Luciano Solinas, che dice che anche quest'anno stiamo assistendo alla anticipata e enorme proliferazione algale dell'Ulva Luctuca. Con una lettera inviata al Sindaco Bruno, all'Assessore Selva, al dirigente Spaneda, al Presidente del Parco Mariani, il delegato sardo del WWF segnala il preoccupante fenomeno di proliferazione di alghe che già lo scorso inverno trasformò alcune porzioni poco profonde della zona umida in un tappeto verde. Situazione scaturita, presumibilmente dall'aumento della temperatura combinata alla presenza di concentrazioni significative di sostanze organiche, fa sapere Carmelo Spada, in seguito a un sovralluogo effettuato in questi giorni. Dice che si è potuto osservare, presumibilmente, l'insorgere nuovamente del fenomeno di proliferazione di alghe in alcune parti della laguna. Inoltre, segnala lungo la pineta che costeggia Vele Burruni, nel tratto tra i capanni di osservazione installati dall'ente parco negli anni scorsi e i confini del campeggio, si è individuato un pozzo al cui interno si scorgono diversi pneumatici. Tale pozzo, dice i rappresentanti del WWF, potrebbe rappresentare un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, in considerazione del fatto che la sua imboccatura è coperta in maniera approssimativa da una transenna. Spada chiede dunque le istituzioni chiamate in causa, ognuna per le specifiche competenze che si impegnino per effettuare verifiche e accertamenti, nello specifico verificare se la situazione descritta rappresenti una nuova condizione di sofferenza della laguna con la manifestazione di Bloom al Gale, mentre sulla segnalazione riguardante il pozzo che vengano bonificate le situazioni inerenti all'abbandono illecito dei rifiuti speciali come i pneumatici e soprattutto che venga messo in sicurezza il pozzo il cui stato di copertura è descritto. Sul possibile Bloom al Gale intanto è intervenuto anche il presidente del comitato di Fertiglia, Luciano Solinas, in anticipo di quasi un mese rispetto all'anno scorso e di svariati mesi rispetto agli anni precedenti, complice la temperatura sopra la media e l'irradiazione solare diretta sulla laguna, la quale innalza di qualche grado la temperatura dell'acqua, grazie anche al basso fondale, stiamo assistendo all'anticipata abnorme proliferazione al Gale dell'Ulva Lactuca. Presumibilmente, afferma Solinas, l'alta concentrazione di azoto e fosforo e l'inalzamento di qualche grado dell'acqua della laguna sono le concause principali che permettono all'Ulva Lactuca tale crescita abnorme. Ma non dimentichiamo, aggiunge il presidente del comitato di Fertiglia, che la relazione annuale redatta dall'ARPAS Sardegna sullo stato trofico della laguna del Calic punta il dito come concause primare sia al versamento dei reflui da parte del depuratore di San Marco sia all'imbuto creato dal molo di sopraflutto del porto di Fertiglia. Non è difficile capire chi recupera la salvaguardia della laguna del Calic deve e può passare solamente dalla risoluzione di queste principali concause, segnala Solinas, secondo il quale le stesse hanno portato purtroppo a far conoscere a livello nazionale la famigerata marea gialla, creando uno spiacevole e deleterio danno d'immagine per la riviera del Corallo. Facciamo una prima pausa per la pubblicità, tra poco. Dopo circa due anni di attività l'amministrazione rientra in possesso degli spazi lungo il viale 1 maggio chiudendo un lungo iter burocratico ed evitando nuove istanze di usucapione. Lo fanno sapere dal comune e parlano all'interno dell'area pubblica un terreno in località Maria Pia fino alla giornata di ieri occupato da alcuni privati senza titolo alcuno erano presenti i cavalli trasferiti in un'altra sede e un box in legno risultato abusivo. Sempre dal comune parlano dell'attività di sgombero che è stata eseguita dalla polizia locale alla presenza sul campo del Maggiore Secchi con il coinvolgimento attivo dei settori ambiente, demanio e manutenzioni, il coordinamento amministrativo della segreteria generale e dell'avvocatura comunale. L'area di Maria Pia è patrimonio della collettività e come tale va salvaguardata, ripete l'assessore Aldemani e Patrimonio Tanchis, che sottolinea la straordinaria valenza ambientale e le potenzialità turistiche dei terreni fronte mare, oggetto di numerose cause di usucapione determinate dall'irresponsabile in curia del passato. Sabato 3 febbraio alle 19, Claudia Zedda sarà ospita della libreria Sirano per presentare insieme ad Alessandra Sequenza il suo libro Rebecca e Legianas, un libro magico e incantato da leggere in famiglia davanti al cammino, accanto al sole che tramonta o alla luna che sorge. È un libro da leggere a scuola con la maestra, al centro e i ragazzi attorno. È un libro da leggere in cucina con la testa persa fra i sogni e il forno acceso. Per i ragazzi che leggeranno Rebecca e Legianas, le ricette sono tutte fatate da provare con la mamma, il papà o i nonni. Per gli adulti che leggeranno questo libro, non smettete mai di guardare il mondo con gli occhi del bambino che siete stati, scrivono. Dunque l'appuntamento è per il 3 febbraio alle 19. E negli scorsi giorni, negli studi di CatalanTV, è venuta a trovarci Nadia De Santis, progettista di WineUp, che tratta di enoturismo integrato e sostenibile. Con lei abbiamo parlato di questo progetto e poi dell'adesione alla famosa campagna Mi Illumino di Meno. WineUp aderisce a Mi Illumino di Meno. Nadia, spiegaci di cosa si tratta. Mi Illumino di Meno è una campagna internazionale sul risparmio energetico, curata da Rai Radio 2 di Caterpillar. Quest'anno promuovono, il tema di quest'anno è quello di arrivare sulla Luna con dei passi. Quindi noi di WineUp promuoviamo tutte le iniziative baccose all'interno del sistema, sia dell'applicazione che del portale dell'enoturismo sostenibile. Cosa bisogna fare appunto, cosa dovevano fare o meglio le aziende per aderire? Entro il 20 febbraio accogliamo quelle che sono le diverse iniziative baccose delle aziende vitivinicole, delle enoteche, dei wine bar, affinché possiamo promuoverle, programmarle e dare il giusto lancio. Di WineUp abbiamo parlato anche nei mesi scorsi, qui anche a CatalanTV con te. Come sta andando? Sta andando strepitosamente bene, siamo veramente soddisfatti. È stata già scaricata in 136 paesi del mondo, stiamo accogliendo un certo successo e a breve vi racconteremo anche le nuove iniziative che sono oltre mare. Ricordiamo per chi volesse scaricare l'applicazione. L'applicazione può essere scaricata da tutti i dispositivi, sia cellulari che tablet, da tutti i dispositivi ed è gratuita. E' detto dell'adesione entro il 20 febbraio, ecco, chi volesse aderire, l'azienda che volesse aderire, cosa deve fare? Deve inviare per email a info-wineup.it la propria adesione e la propria iniziativa. Sabato 3 febbraio gli iscritti e i simpatizzanti dell'AMP di Alghero sono convocati nella sede della CGL in via Rossini dalle 17.30 alle 19 per aprire la campagna di tesseramento e per discutere insieme delle attività da avviare nel corso dell'anno. I lavori si svolgeranno così, la relazione introduttiva del Presidente, alla quale seguirà il dibattito, le deliberazioni sulle attività da intraprendere e infine la campagna di tesseramento. Ci lasciamo per l'ultima pausa pubblicitaria. Lo sport in chiusura del nostro telegiornale. Partiamo con la pallacanestro dopo il turno tra le muramiche del Palamanchia per la Gabeti pallacanestro Alghero e doppia sfida tra Alghero e Sassari. Oggi ospita la Killbeer per il torneo Open Wisper regionale e domenica 4 il terzo tempo basket nel campionato di promozione maschile della Federazione Italiana Pallacanestro. Entrambi gli impegni sportivi non sono per nulla facili. Le squadre a Marchio Gabetti dovranno dimostrare tutto il loro valore cestistico per incassare i due punti in palio e per non perdere posizioni in classifica a favore degli sfidanti. Per quanto riguarda quindi nel particolare la Wisp nella seconda giornata di ritorno del girono unico questo era della promozione scusate il roster allenato da Andrea Cardone gioca quasi uno spareggio per il terzo e quarto posto con il terzo tempo basket. In classifica infatti la formazione di coach Cesaraccio è a pari punti con gli algheresi ma con il vantaggio di aver vinto la gara di andata. L'obiettivo dichiarato per la Gabetti è vincere con almeno tre punti di scarto questo per ribaltare la posizione negli scontri diretti. Entrambe le partite come detto si giocheranno al palazzetto dello sport Luca Manchia di Alghero oggi alle 20.45 mentre domenica 4 febbraio l'appuntamento è per le 18.00. E sempre domenica 4 febbraio l'Alghero Bike è impegnata nell'organizzazione della tappa di casa del Grand Prix intitolato a Marco Garau che ha visto tappa in varie parti dell'isola e che si chiude proprio nella riviera del Corallo. È stato lo stesso presidente Luciano Catoni a parlarci dell'evento sportivo che si svolgerà nella pineta di Maria Pia. Intervista anche con Renato Moro Merella che da questa primavera si occuperà insieme ad altri due maestri del settore giovanile dell'Alghero Bike. Parliamo di due ruote con l'Alghero Bike che domenica Maria Pia organizza la gara di casa in questa specialità Grand Prix una specialità che vi ha visto tra i protagonisti in gare in tutta la Sardegna. Luciano Catonio presidente dell'Alghero Bike che gara sarà? Eccoci qua praticamente il finale della stagione è ripreso dopo tanti anni il ciclocross in Sardegna bellissima disciplina vecchia quanto il ciclismo e l'Apoteosi sarà domenica ad Alghero perché ci saranno anche l'assegnazione delle maglie. È un Grand Prix che come detto vi ha visto in varie tappe in giro per la Sardegna. Come può essere il bilancio? Positivo? Positivo per noi soprattutto perché da quest'anno abbiamo anche degli atleti nuovi specialmente le donne che tutte le domeniche hanno fatto i podi e questa è una grande soddisfazione. Cioè vuol dire che anche per le donne c'è spazio in questa disciplina. E allora corridori uomini, donne perché abbiamo visto che sono abbastanza talentuose, anzi talentuose abbiamo qui Renato Moromerella che è un maestro che in questo 2018 probabilmente aiuterà i ragazzi che si vogliono affacciare al ciclismo dell'Alghero Bike a ovviamente amare questa disciplina. Senz'altro, abbiamo in programma insieme ad altri tre maestri che ci stiamo formando in questo periodo di aprire la scuola in primavera. Sarà una scuola dedicata soprattutto ai bambini dai 6 ai 12 anni quindi invitiamo i genitori che hanno i ragazzini che fervono dalla voglia di pedalare di presentarli presso l'Alghero Bike. Quindi anche i bambini dai 6 anni, Luciano Cattogno, questo sport cresce? Sì, cresce tanto. Cresce tanto e in questi ultimi anni la bici in generale è cresciuta per tanti motivi, sia per sport, anche come educazione e soprattutto anche come movimento. Allora in conclusione un invito alla cittadinanza, orari per domenica? Sì, allora praticamente la gara ufficiale parte le 10 e mezza con le categorie giovanili e praticamente l'ingresso della pianeta di Maria Pia, subito dopo l'ospedale marino. 10 e mezza, sono tre fasce di orari, 10 e mezza, 11 e mezzogiorno l'ultima partenza da un'ora. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Grazie per averci seguito, arrivederci.